5, 4, 3, 2, 1, l'attacco è iniziato. Scordate il ca- Il dolore è un'intellente maestro. Il dolore è un'intellente maestro. Ho localizzato il telebarco. Distruggetelo. Il ciclo comincia nuovamente. Il dolore è un'intellente maestro. Preparatevi all'impatto. Cura potenziate. Il dolore è un'intellente maestro. 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 Deve uspare commise dirte al cybernode. Il carico è mio. Preparatevi all'impatto! Nelle festività! Il carico è vero... Non fare più, ma che hai fai, o non? Non fare più. 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 No. Fai passare. Non fare più. la ripetizione conduce alla maestria in arrivo mi servono cure mancano 10 carico in movimento il carico ha raggiunto il checkpoint preparatevi all'impatto per mezzo Almeno sulla lista. Perfettione in mele. Perdetevi... nelle festività. Capi coraggio. È il tatto con le luce. La lotta continua! Capaccio! Capaccio! il carico ha raggiunto il cerchio preparatemi all'impatto la forse lo soppertano l'eroe forse lo soppertano l'eroe forse lo soppertano l'eroe forse lo soppertano l'evento e l'evento e l'evento da l'incredo a me lo soppertano l'eroe controllo dove arrivare non ci ringrazio lo soppertano no sento il calore del diri detruire dentro di me grazie ho visto di peggio della camera e' quelli che arrivano il carico sta per pringere la destina su via 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 C'è un po' di più.